pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati solennità del corpus domini corpo e sangue del signore ovvero della sua presenza vera reale sostanziale nel sacramento dell'eucaristia è un'occasione bellissima per riscoprire un po l'abc di questo sacramento il suo valore e il suo senso proviamo a fare insieme tre piccoli passi tenendo sullo sfondo il brano del vangelo partiamo dal chiederci che cosa è l'eucaristia o meglio chi è l'eucaristia è gesù presente tra noi in tutta la sua persona cioè corpo sangue anima divinità gesù stesso nell'ultima cena infatti ha detto prendete e mangiate questo è il mio corpo cioè detto in modo semplice questo sono io e poi prendete bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza cioè qui c'è la vita la mia vita offerta per voi donata a voi allora miei cari la prima grazia da chiedere al signore oltre il dono di una fede forte nelle sue parole è la grazia dello stupore vedete noi rischiamo di sottovalutare banalizzare un dono così grande dio stesso che pur di stare con noi in noi continua a farsi piccolo al punto come diceva san francesco da nascondersi sotto poca apparenza di pane ecco perché il vangelo secondo marco si apre con le indicazioni di gesù sul luogo dove preparare la cena di pasqua che avrebbe mangiato con i suoi discepoli dandole poi un significato ultimo profondo questo sembra anche suggerirci l'importanza di preparare il cuore ad incontrare gesù ricordandoci chi incontriamo nella celebrazione eucaristica chi accogliamo in quella piccola ostia bianca una ragazza che frequentava la chiesa ma distrattamente una tantum con una vita un po sregolata un giorno era in fila per ricevere l'eucaristia e come il sacerdote le poggiò l'ostia sulla mano lei si sentì trafiggere interiormente il cuore da un pensiero che la commosse qui c'è gesù come posso continuare a vivere come ho fatto sino ad ora ecco questo ci aiuta a chiederci quanto sia viva la nostra devozione per l'eucaristia con quale disposizione d'animo la accogliamo con quale raccoglimento la riceviamo se a volte passiamo anche solo per un breve istante in chiesa per un saluto un momento di adorazione al santissimo sacramento ricordandoci che lì c'è gesù che ci aspetta e ci ama ora mi cari facciamo un passino avanti come secondo punto proviamo a cogliere qualcosa del dinamismo d'amore dell'eucaristia come sapete durante la celebrazione della messa quando il sacerdote impone le mani sul pane e il vino e invoca la discesa dello spirito santo questo momento è chiamato epiclesi avviene la cosiddetta transustanziazione cioè cambia la sostanza pane e vino esteriormente restano uguali ma profondamente sono corpo e sangue di gesù per dirle in modo semplice citando un esempio simpatico di padre cantara messa avviene l'opposto di quando andiamo dal parrucchiere o dall'estetista lì viene trasformato il nostro aspetto esteriore usciamo agghindati cotonati depilati e quant'altro ma profondamente restiamo come eravamo prima se eravamo intelligenti lo saremo anche dopo se non lo eravamo non lo saremo nemmeno dopo invece dopo la discesa dello spirito santo pane e vino esternamente restano tali ma profondamente cambiano diventano corpo e sangue di gesù ma ci potremmo chiedere come è possibile che gesù possa donare il suo corpo e il suo sangue qual è il fondamento di questa trasformazione certo gesù è dio e dio può tutto ma proviamo ad andare più in profondità benedetto sedicesimo ha fatto notare che durante l'ultima cena facendo del pane il suo corpo e del vino il suo sangue gesù anticipa la sua morte la accetta nel suo intimo e la trasforma in un'azione d'amore pensate alle parole che il sacerdote ripete nella preghiera eucaristica nella notte in cui veniva tradito prese il pane eccetera cioè gesù accoglie quello che è esternamente tradimento e violenza brutale pensate alla crocifissione e dall'interno lo trasforma in un atto d'amore di dono totale di sé e questa è la trasformazione sostanziale che potremmo dire alla base dell'eucaristia che è quella potenza d'amore capace di trasformare il mondo fino a quando nei cieli nuovi e nella terra nuova dio sarà tutto in tutti e capace di trasformare la vita di coloro che accolgono l'eucaristia con fede ecco perché noi miei cari accostandoci all'eucaristia non ci accostiamo ad un oggetto sacro ci accostiamo alla persona stessa di gesù che non è una statua di marmo monolite ma è uno che ama potentemente il padre e tutti noi e nell'eucaristia ci comunica se stesso e ci coinvolge in questo suo movimento d'amore per il padre e per gli altri ecco che accogliendo allora con fede questa potenza d'amore man mano veniamo trasformati in lui veniamo santificati veniamo resi profondamente capaci di amare a questo punto miei cari facciamo il nostro terzo passo quali sono i frutti della comunione in noi rifacendoci al catechismo della chiesa cattolica ve ne elenco quattro primo l'eucaristia ci unisce a dio ricevendo infatti l'eucaristia si alimenta la vita di grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo vedete miei cari l'eucaristia ricevuta con fede man mano ci unisce sempre più a gesù pensate alla nutrizione quando noi mangiamo assimiliamo le sostanze dei cibi che abbiamo ingerito quando mangiamo l'eucaristia siamo noi che veniamo assimilati da cristo significa che siamo resi partecipi della sua vita dei suoi sentimenti dei suoi pensieri del suo amore è come se avvenisse una trasfusione viene infusa in noi la vita di dio che cosa grande miei cari questo ovviamente non avviene magicamente ma a seconda della misura della nostra fede che bello allora soprattutto dopo che abbiamo ricevuto la comunione a messa anziché guardare a destra e a sinistra o parlare con tizio caio sempronio o contare le mattonelle del pavimento raccoglierci e parlare cuore a cuore a gesù che in quel momento è fortemente intensamente presente in noi secondo frutto l'eucaristia man mano ci purifica dal peccato e ci aiuta a non ricadervi proprio perché veniamo uniti a dio che è fuoco d'amore il nostro cuore viene purificato dall'egoismo e reso capace di amare inoltre veniamo rafforzati per non cadere nei peccati gravi d'altronde quanto più sei innamorato di cristo tanto più sei portato a non dispiacergli e a non volerti separare da lui ovviamente nel caso in cui fossimo caduti nel peccato grave ci vuole il sacramento della riconciliazione il terzo frutto strettamente collegato al primo è che l'eucaristia ci fa chiesa cioè ci unisce tra di noi san giovanni crisostomo diceva cos'è il pane consacrato corpo di cristo e cosa diventano coloro che si comunicano corpo di cristo non molti corpi un solo corpo quello di cristo ecco l'eucaristia ci unisce tra di noi volendo usare un'immagine molto semplice pensate ai raggi della ruota di una bicicletta tutti convergono verso il centro tutti si incontrano in quel centro ecco in gesù noi veniamo uniti veniamo resi un solo corpo per questo la celebrazione eucaristica è il momento di incontro e di comunione più forte con i nostri cari defunti l'eucaristia dunque ci unisce a dio e tra di noi e qual è la conseguenza pratica che non possiamo riceverla degnamente se siamo divisi gli uni dagli altri se non siamo disposti ad accoglierci a percorrere il cammino del perdono ecco perché l'eucaristia come sottolinea il catechismo della chiesa cattolica chiede anche di aver cura dei poveri e qui c'è un punto importante miei cari riconoscere nel volto del povero la carne di cristo ancora san giovanni crisostomo diceva vuoi onorare il corpo di cristo non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra cioè nei poveri non onorare cristo qui in chiesa con stoffe di seta mentre fuori lo trascuri quando soffre colui che ha detto questo è il mio corpo ha detto anche mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare miei cari fare la comunione vuol dire celebrare la comunione con cristo e quindi voler vivere secondo la sua parola cercando di amare come lui ci ama quarto frutto l'eucaristia è pegno di vita eterna gesù infatti ci ha detto chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno ecco perché i padri della chiesa la chiamavano il farmaco dell'immortalità miei cari davanti a tutto ciò non possiamo che chiedere la grazia che si ravviva in noi la fede l'amore e lo stupore per la presenza viva e reale del signore tra noi nel sacramento dell'eucaristia guardate noi possiamo fare tutti i pellegrinaggi di questo mondo sono una grazia riossigenano il cuore rigenerano spiritualmente ci ricordano la nostra dimensione esistenziale di viandanti ma non dimentichiamolo nell'eucaristia c'è gesù l'incontro più forte con dio che possiamo vivere qui sulla terra e durante la santa messa dove la comunità riunita celebra l'incontro con il suo signore apriamoci dunque allo stupore e con san francesco d'assisi diciamo oh umiltà sublime o sublimità umile che il signore dell'universo dio e figlio di dio così si umili da nascondersi per la nostra salvezza in poca apparenza di pane guardate fratelli e sorelle l'umiltà di dio che il vi benedica pace e bene a tutti